I carabinieri della compagnia di Mistretta hanno eseguito un decreto di sequestro per equivalente di beni mobili ed immobili per 400.000 euro emesso dal GIP del Tribunale di Enna a carico della titolare di un'azienda agrozootecnica di Capizzi. Il GIP del Tribunale Ennese accogliendo in pieno le risultanze investigative del nucleo operativo radiomobile di Mistretta con la quale si deferiva in stato di libertà la titolare di un'azienda agrozootecnica di Capizzi per truffa aggravata ai danni dello Stato finalizzata all'erogazione di finanziamenti pubblici da parte della GEA per un ammontare di 400.000 euro ha disposto il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca dei beni mobili ed immobili intestati. Nel corso delle indagini si è accertato infatti che l'imprenditrice, mediante falsi contratti di affitto, aveva attestato ad AGEA di condurre circa 250 ettari di terreni intestati al demanio della regione, a denti locali del comprensorio dei Nebrodi e ad altri ignari cittadini, riuscendo così ad ottenere negli ultimi 5 anni contributi altrimenti inospettanti per 400.000 euro. All'imprenditrice i militari hanno sequestrato 10.000 euro rinvenuti su tre conti correnti, tre abitazioni, un laboratorio artigianale, un garage, due magazzini, due fabbricati rurali, 32 tra terreni agricoli e pascoli delle estensioni totale di circa 100 ettari ed un'autovettura Fiat Panda 4x4 del valore di circa 7.500 euro. I beni immobili ubicati a Capizia Mistretta e quelli immobili sono stati posti dai militari a disposizione dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Enna.